Una cerimonia sentita come deve essere sentito da tutti questa ricorrenza perché ripeto ha segnato veramente uno spartiacque tra il prima e il dopo allora chi ha vissuto quegli eventi e quegli anni lo ricorda bene chi in quegli anni non c'era deve imparare una memoria che non è propria quindi deve imparare a ricordare, deve ricordarlo non solo tramite quello che si può leggere sui libri, sui giornali ma attraverso il ricordo vivo delle persone che invece erano presenti e questo è un impegno che tutti quanti dobbiamo prenderci perché per essere una comunità bisogna condividere determinati percorsi, determinati valori